Rieti è la sua provincia come non l'avete mai vista cercatela su Rieti Network il portale che con foto e video vi accompagna in un viaggio immersivo tra natura, spiritualità, cultura e bellezza camminare, pedalare, correre, sciare, persino volare scopri l'angolo del reatino che fa per te e per il tuo tempo libero scorri gli eventi che si susseguono settimana dopo settimana borgo dopo borgo e poi vieni a goderti Rieti Nature uno spettacolo di provincia Rieti Nature è un portale di promozione del territorio della Fondazione Varrone Cassa di Risparmio di Rieti Paci Auto 4 una storia di passione e innovazione scopri le nostre filiali di Rieti, Terni, Orvieto, L'Aquila e visita il sito www.paciauto4.com e visita il sito www.paciauto.com e cura dei dettagli per l'uomo, la donna e per la cerimonia scegli Tosti e Avvigliamento l'abito giusto per ogni occasione vuoi essere sempre aggiornato sulle principali notizie di Rieti Life invia un Whatsapp con scritto C-Life al 392 635 5552 e ricevi le news direttamente sul tuo smartphone in modo semplice e veloce tutta l'informazione di cui hai bisogno su www.rietilife.com Ben trovati, eccoci insieme a Basket Life anche questa settimana cominciamo e parliamo di pallacanestro avremo tante cose da dirvi e tante cose da raccontarvi ma come sapete io non sono solo nel condurre perché come c'è sempre Lara piccolo ciao Lara ciao Roberto, ben trovati cari amici vi ricordo che quest'anno l'appuntamento con il salotto di Basket Life è settimanale quindi ci vedremo ogni martedì vi ricordo inoltre che potrete rivederci nei giorni a seguire su www.rietilife.com e su tutte le nostre pagine social ma andiamo a salutare i nostri ospiti bene, li presento subito allora grazie, comincio dalla mia destra con il coach della Real Sebastiani Rieti Alessandro Rossi bentornato nei nostri studi grazie vicino a lui Alessandro Brucchietti che è uno dei nostri ospiti fissi grazie Roberto stasera ne abbiamo due l'altro designato tra un po' lo vedete che è vicino al coach Francesco Ponticello della LPC Rieti buonasera coach e benvenuto buonasera a voi la prima volta qui nello studio siamo felici di averla e ne avete già visto due Francesco pochi giorni fa era il 4 ottobre e quindi auguri un po' in ritardo grazie grazie santo dei santi allora io direi di fare due flash mi legge subito i risultati di serie A2 e classifica un flash col coach e poi passiamo a vedere cosa è successo in serie B andiamo a vedere insieme risultati e classifica Urano e Milano Piacenza 86-73 Real Sebastiani Rieti Cantù 68-74 Nardò Cremona 72-97 Sellacento Orzinuovi 84-86 Rimini Bologna 74-66 Torino Udine 58-84 Vigevano Livorno 66-76 Pesaro Avellino 82-77 Forlì Verona 92-86 Civitale Brindisi 79-70 La classifica con 6 punti troviamo Rimini Iuvi Cremona Urania Milano con 4 Orzinuovi Cividale Udine Pesaro Real Sebastiani Eredi Forlì con 2 Cantù Sellacento Verona Torino Avellino Livorno Vigevano e con 0 punti Brindisi Bologna Nordo e Piacenza Bene Siamo alla seconda puntata Già a tre partite giocate Alessandro Un flash di questa terza giornata in un minuto Tu hai fatto una conferenza stampa molto dettagliata Non la manderemo perché ce le dirai in diretta le cose che pensavi Però insomma Una terza giornata già indicativa? In parte un pochino sì Nel senso che poi la classifica già in qualche modo sta delineando qualche equilibrio vediamo quasi tutte le big comunque con due vittorie e qualcuna sotto che già insomma era pronosticabile che potesse far fatica all'inizio anche per il calendario c'è la stortura un po' di vedere Brindisi ancora a zero però sono tutti assestamenti normali quello che dobbiamo cercare di fare noi dal nostro punto di vista è cercare di rimanere aggrappati al vagone che conta quello in avanti quello alto e cercare di aggrapparci con le unghie per tutta la stagione poi parleremo della formula parleremo di questo girone unico analizzeremo di più nel dettaglio questa partita giocata con Cantù e Persa purtroppo io la settimana scorsa ero felice perché festeggiavo le due vittorie invece questa settimana dobbiamo registrare due sconfitte per le due reatine e quindi in Serie B Lara andiamo a vedere i principali Virtus Roma Sansevero 102-54 Virtus Cassino Gemma Montecatini 72-89 Montecatini Iuvica Serta 64-56 Piombino Ravenna 68-63 Roseto N.P.C. Rieti 109-73 Chieti Sant'Antimo 72-81 Ruvo di Puglia Fabriano 65-83 Latina Luis Roma 77-59 Salerno Iesi 81-80 Piale Livorno chiusi 87-67 La classifica con 6 punti troviamo Montecatini Piale Livorno Roseto Salerno Gemma Montecatini con 4 Chieti N.P.C. Rieti Ruvo di Puglia con 2 Latina Iuvica Serta Piombino chiusi Sant'Antimo Fabriano Ravenna Virtus Roma e Luis Roma e con 0 a chiusura Cassino Iesi e Sansevero Cocci per il Ponticerno peccato dopo 2 vittorie è arrivata questa trasferta non da poco insomma con una delle candidate questa terza giornata cosa ci dice in Serie B nazionali? Per quello che riguarda noi credo che sia sicuramente importante valutare oltre il cosa il come abbiamo perso contro una compagine che sta rifilando parziali importanti a tutti che è una delle grandi favorite ed è quella tra le squadre di primissima fascia inglobando i due gironi che sta facendo meglio di tutte noi ci siamo presentati oltre che con ancora i problemi burocratici che fermano l'utilizzo di Aaron Thomas con l'impossibilità di utilizzare Agustin infabbi e probabilmente anzi sicuramente con un andamento di gara non così consapevole non così continuo come invece avevamo mostrato pochi giorni prima in quel di Latina per quello che riguarda i valori in generale credo si andrà avanti sarà una lunga maratona in cui risultati sorprendenti qualche di uno ci sono stati anche in questa terza giornata i risultati di routine scorreranno su un doppio binario altrettanto continuo insomma sarà una maratona insomma questo credo sia chiaro a tutti grazie grazie coach torniamo un attimo ad analizzare questa Real Sebastiani a San Bernardo Cantù che è stata veramente una partita un po' a strappi io oltre al risultato finale che è 68-74 mi sono divertito per modo di dire a vedere i parziali un 20-18 nel primo quarto quindi grande equilibrio grande reazione di Cantù che ha concesso solo 9 punti alla Sebastiani con un 9-18 a sua volta invece Rieti prende in mano la situazione lì c'è stata la forte illusione di questo 27-18 e il crollo finale invece un po' che ha determinato questa sconfitta il coach è qui con noi vorrei un attimo una battuta da Alessandro e da Francesco come avete visto questa partita una partita resta un po' di rammarico però vediamo ci sono anche dei dati anzi io individuerei forse i dati i dati almeno inizialmente i dati positivi c'è stato un inizio di un terzo quarto bello e anche l'inizio del quarto quarto la squadra ha entusiasmato in quel momento e ha reagito a un secondo quarto difficilissimo quindi ha dato un segnale importante poi qualche giocata c'è stata qualche giocata un po' un po' di confusione nelle giocate decisive i problemi sono stati sostanzialmente offensivi e si sono accentuati in quei 4-5 minuti che hanno deciso la partita secondo me grazie Alessandro tra l'altro Francesco Francesco Alessandro non l'avevo neanche fatto apposta la tua precisione è proverbiale potevo anche incrociarle tu metabolizza sentiamo Francesco Pifani e poi ci dai le risposte guarda allora io ho visto a metà del primo tempo per questioni professionali sono andato via perché sono dovuto andare in clinica per operare ho visto quindi il terzo si è perso il meglio il peggio allora la mia analisi è questa loro il primo tempo hanno giocato forte su Basile Basile è stato decisivo il secondo tempo hanno giocato forte su McGinn e chi è stato decisivo sono tornato indietro nel tempo all'Altea una partita con Varese l'Altea di Sojourner e Mili quando il primo tempo Morse fece il fenomeno e il secondo tempo Jelberton fece il fenomeno quindi la differenza secondo me l'hanno fatta gli americani grazie io aggiungo solo due cose Alessandro cosa hai detto nell'intervallo per quella bella reazione e cos'è accaduto nell'ultimo quarto che invece non è accaduto quello che doveva succedere ma onestamente non ho formule magiche o comunque non ho abbiamo cercato di toccare quei tasti tecnici che potevano aiutarci abbiamo cercato di giocare con maggior dinamismo in attacco che era una cosa molto complicata da fare perché la loro fisicità era tanta lontano dalla palla sulla palla quindi abbiamo cercato di trovare soluzioni un po' più dinamiche per cercare di limitare il gioco l'uso dei palleggi sul posto soprattutto che chiaramente alle volte è una cosa involontaria che avviene perché ci sono anche i meriti degli avversari che ti costringono a delle scelte cattive e quindi l'attacco che è stato un po' durante tutta la partita lago della nostra bilancia perché difensivamente abbiamo fatto compressivamente un discreto lavoro nell'arco dei 40 minuti seppur con delle imperfezioni l'attacco ci ha rimesso in piedi così come come dicevano correttamente purtroppo negli ultimi 5 minuti c'è mancata proprio la lucidità nelle scelte su 10-12 possessi forse abbiamo fatto un paio di possessi di grande lucidità e 8-10 possessi non voglio dire improvvisati perché non è corretto ma dove non siamo riusciti a andare all'obiettivo non siamo riusciti a muovere la palla come avremmo dovuto e quindi poi con una squadra come il Cantù la partita anche rivedendola più volte è una partita che si decide su piccoli possessi chiave su dettagli su 66 pari Pollone prova a fare un fallo tre volte ma non gli viene fischiato e Meghi riesce a fare fallo e canestro praticamente scappandogli via sono quei momenti dove con le squadre forti le partite possono girare quindi ci dà tanto materiale stimolo per poter continuare a lavorare diciamo pure che non ci sia stato proprio un'uniformità di giudizio nelle fine i fischi c'è stato pure qualche problema nei fischi che comunque comunque ti trovavi nel momento in cui i punti di vantaggio erano 5 là c'è stato un paio di possessi che l'avrebbero potuta decidere per noi positivamente e comunque anche ecco sicuramente sì però se tu ti trovi poi ad avere da una parte un contatto non fischiato dall'altra un contatto fischiato anche quello incide o no sul fatto degli arbitri che hanno inciso non ho visto non ho visto onestamente non ho visto un abitaggio scandalo su io ho visto anche ho visto anche il coach che alla fine nel momento in cui ha salutato gli arbitri stavo lì e ho visto ti ricorderai sicuramente hai fatto come vedi vabbè perché era un po' di vita siamo rimasti rispetto al campo rispetto al campo la televisione dà delle prospettive siamo rimasti nel dubbio però comunque la cosa non è inciso ma rapidissimo qui forse tutti noi allenatori più teniamo è un po' la costanza di metro nella partita ma non è voglio dire un qualcosa che magari alle volte va a svantaggio alle volte a vantaggio sicuramente non c'è stata magari una perfetta uniformità di metro però sicuramente ecco magari non c'è stata però come dire non è la chiave per noi di lettura della partita anche se ovviamente ci sono dei momenti dove queste cose pesano correndo alla chiave sei d'accordo in base anche a quello che hai detto che nel momento di recupero c'è stato più gioco di squadra più circolazione di palla troppi uno contro uno e forzature in particolar modo da Jets in quel caso poi non si discute perché è un giocatore che non si discute però è un momento migliore quando ha circolato la palla e quando sono stati messi anche gli esterni compreso Monaldi in condizioni di segnare un po' tutti insieme fondamentalmente quando siamo riusciti a muovere la palla chiaramente si gioca meglio ma alle volte ripeto bisogna considerare anche il grande lavoro difensivo degli avversari la capacità di sporcarti ogni linea di gioco è così come cercavamo di fare noi con Cantù a Cantù la partita l'ha risolta l'individualità di McGee nei momenti cruciali quindi alla fine diciamo che la capacità di far circolare la palla è un qualcosa che abbiamo avuto noi a tratti l'ha avuta Cantù a tratti poi le due squadre si sono abbastanza annullate in quello che è il gioco il gioco di squadra è diventato una partita sporca di uno contro uno come normale che sia e nell'uno contro uno nelle situazioni a giochi rotti loro hanno avuto maggiore lucidità nell'andare a pescare l'obiettivo il giocatore giusto e la situazione giusta e noi siamo stati più farraginosi ecco quello sicuramente la smania di vince tra l'altro assente anche Baldi Rossi invece passiamo di qua perché questo roster da paura di Roseto non si discute ho detto prima peccato perché insomma le due vittorie consecutive venendo dalla stagione precedente che è stata una sofferenza continua quest'anno ha una squadra molto diversa a mio avviso è diverso tutto il girone però anche la NPC è più forte è più strutturata con due giocatori esperti come Fabi e Baldassarre dicono la loro assolutamente in Serie B poi parliamo anche di Aaron Thomas è chiaro che se ti manca Fabi contro Roseto la soffri un po' però peccato perché riavvolgendo un po' il nastro e vedendo anche la vittoria sofferta da NBA contro Fabriano Fabriano è comunque una squadra da metà classifica in su quindi due vittorie non con le scartine ma due vittorie importanti certo poi se incontri questa squadra forse lo scarto magari hanno un po' mollato verso la fine anche dalla conferenza stampa mi sembrava di cogliere questo ma sicuramente quando perdi in maniera così netta non puoi che valutare anche aspetti legati alla dimensione dello scarto però io credo che sia proprio la performance che sia stata differente rispetto alle due partite precedenti e credo che sostanzialmente non saremmo come dire nella modalità corretta se andassimo a guardare all'assenza di Aaron Thomas o quella di Fabri perché divengono dei fattori non voglio neanche dire banalmente di alibi che tolgano consistenza a quello che sei come gruppo come entità la verità è che noi abbiamo faticato a rientrare dal contropiede credo che sia un qualcosa che sia capitato anche alla Luis contro Roseto perché è una compagine che gioca tantissimo di flusso in pratica gioca pressoché esclusivamente quello che gli americani chiamano i nearly offense cioè arrivando direttamente dalla prima alla seconda onda del contropiede e mettendosi in ritmo a difesa però tanti punti presi rientro dal contropiede e difesa sono stati noi lo avevamo detto anche dopo la partita vinta con Fabriano e dopo la partita con Latina questa è una squadra che non difende nella modalità che è diciamo consueta al sottoscritto lasciando anche stare poi in Serie B un campionato ma non credo che sia un problema di categoria il problema è che il flusso è diventato sempre più il fattore chiave molto del flusso offensivo di di Roseto è frutto della grande intensità difensiva che gli abruzzesi riescono a esercitare sulla palla riescono a a mettere in tutto il loro sviluppo del gioco oramai dividere la parte offensiva da quella difensiva diventa quasi un esercizio retorico la verità è che prendi ritmo dalla difesa e che l'attacco ti mette nelle condizioni di poter difendere in condizioni migliori noi lo abbiamo fatto per 15 minuti poi è l'aspetto statistico segnare 73 punti contro quella difesa non è di per sé un qualcosa che ci renda come dire insoddisfatti però al di là dei 109 punti se guardiamo le percentuali al tiro che abbiamo concesso a Roseto e al di là della qualità di Roseto beh non possiamo senz'altro essere contenti non siamo assolutamente ad un buon livello sotto questo profilo è il nostro upgrade Francesco direi che comunque è un'NPC molto diversa rispetto sofferente fino all'ultima partita intanto bisogna fare i complimenti al coach Ponticello per aver salvato la squadra lo scorso anno perché l'abbiamo detto più volte lo scorso anno perché insomma lo scorso anno lavorare nelle condizioni in cui ha lavorato il coach tanti infortuni poi tanti infortuni ma una rosa proprio di stretta all'osso insomma c'è da fare i complimenti quest'anno dico questo non per andare in contrasto col coach ma regalare Fabi Thomas e anche Cannamina che non sta giocando a una squadra come Roseto che fa l'intensità difensiva la base per poi vincere le partite insomma tanto più che Gramenzi nel post partita ha dichiarato proprio questo che forse la NPC ha sofferto l'intensità difensiva di Roseto è difficile andare a giocare a Roseto senza tre giocatori importanti insomma ecco quindi una partita che prenderei così è andata così li aspettiamo a Rieti quando torneranno al palo soggiorno e ci rifaremo al palo soggiorno beh che sia ben augurante allora Alessandro il calendario particolare in positivo però strano perché le prime otto partite cinque in casa tante anche ravvicinate adesso sabato prossimo arriva Cantù quindi arriva Pesaro quindi il confronto Cantù-Pesaro può darvi già un'unità di misura poi nel dettaglio parleremo di questa prossima di questa prossima partita le due vittorie consecutive tra virgolette avevano anche un pochettino illuse anche se il pubblico era presente però io te la voglio fare questa domanda perché ne abbiamo già parlato per avere dei recuperi migliori avete un po' spostato degli orari anche per gestire meglio la squadra ma secondo te un po' ci ha rimesso anche il botteghino nel senso che alle 4 un orariaccio per vedere un sabato sera alle 21 boh guarda nello specifico delle 4 per questa piazza nello specifico delle 4 solo per correttezza diciamo di informazione è un qualcosa che ci ha richiesto Cantù alle 16 è un favore tra società per cercare di favorire il loro rientro così come loro farebbero probabilmente con noi dovessero dovesse arrivare una richiesta del genere però al di là di quello io credo che sia necessario è un qualcosa di necessario purtroppo sai lo sport io capisco anche l'essere legati alle tradizioni agli orari e qua alle 6 si va al palazzo ci mancherebbe io capisco perfettamente però dall'altra parte si va anche un po' avanti e bisogna guardare avanti noi dobbiamo guardare al nostro campionato agli investimenti che ha fatto la società dobbiamo tutelarli e se tutelare un investimento significa anche spostare una partita al giorno prima per avere un giorno o più di recupero io trovo che sia un'operazione doverosa assolutamente da fare senti questo calendario favorevole è anche diciamo tremendo perché non puoi sbagliare tu stesso hai dichiarato in casa non possiamo concedere nulla è pericolosissimo nel senso che abbiamo sì partite in casa ma giochiamo con Cantù, Brindisi e Pesaro Cantù ci abbiamo già giocato nelle prime praticamente 5 gare in casa quindi sono già delle partite che hanno un peso specifico importante perché è chiaro che in questo campionato se vuoi rimanere agganciato al treno di su che vuol dire essere come dire nelle prime 8-9 posizioni del campionato è chiaro che qualche sgarbo alle big devi por farlo e le big sono veramente big cioè parliamo di squadre con un potenziale economico offensivo tecnico importantissimo stata definita la 2 più forte di sempre assolutamente noi non vogliamo collocarci come dire in una fascia siamo ambiziosi vogliamo cercare di stare aggrappati a queste posizioni che contano però questo comporta chiaramente il dover fare degli sforzi importanti extra e cercare di portare a casa qualcuna di queste partite siamo stati molto bravi secondo me a vincere a Bellino dove è una partita quella è una partita da vincere cioè sono quelle partite dove la cosa più importante in quel caso è la vittoria perché devi cercare di dare seguito al lavoro alla vittoria della prima giornata e tenerti dietro le squadre che potenzialmente sulla carta ti potrebbero essere inferiori perché poi il campo può sempre dire il contrario e adesso così abbiamo perso un'occasione con Cantù perché comunque era un'occasione era diventata a quel punto e ora dobbiamo cercare di tutte quelle in casa sono occasioni esattamente dobbiamo cercare di non perderne un'altra con Pesaro cioè dobbiamo provare a vincere Lara ti vedo concentratissima hai delle domande poi quando ci sono gli allenatori proprio ma devi chiedere qualcosa se vuoi no ma ne ho anticipato la domanda no veramente mi hai anticipato la domanda perché anche io avevo questa questa è proprio la risposta anche del pubblico ah del pubblico vabbè però c'è insomma sì io credo che poi alla fine con Cantù si sia creato un bel ambiente soprattutto nel secondo tempo ci hanno spinto tanto durante la rimonta chiaro che io spero sempre di vedere il pubblico con il quale abbiamo finito la scorsa stagione capisco che la situazione non è facile a tanti livelli quindi soprattutto ecco la situazione economica generale però credo che gli sforzi che si stanno facendo in qualche modo meritino un seguito un appoggio incondizionato cercando di ecco aiutarci a fare il mio risultato possibile perché poi alla fine sappiamo che il Palacio Giurner io diciamo un po' di esperienza di Palacio Giurner ce l'ho quando è carico è veramente il sesto diciamo che ne ho fatte tante al Palacio Giurner sia vuoto sia pieno però pieno fa la differenza e anche pieno oggettivamente fa la differenza allora Alessandro Brucchietti è stato sì poi dopo ti riprendo perché sei d'accordo Cocci che quest'anno forse è la squadra più forte in assoluto che questa società ha messo in campo sì anche per un campionato più forte in assoluto senza assolutamente nascondersi perché non ha nessun senso sono stati fatti gli investimenti importanti è una squadra dal mio punto di vista forte che non ho ancora capito che può essere forte ma che si trova all'interno di un campionato appunto ipercompetitivo quindi i nostri sforzi sono stati pareggiati purtroppo da tante altre squadre però è una squadra che ha dei valori ha dei valori e io sono sicuro che li dimostrerà col tempo è un percorso come diceva anche il coach lunghissimo perché comunque 38 partite è una maratona non si tratta di vincere adesso e subito si tratta di arrivare quando conterà nel miglior momento ecco possibile di forma però è una squadra con dei valori tecnici importanti così come le altre allora Alessandro voglio coinvolgerlo tra un attimo però mi hai un po' anticipato un argomento che volevo prendere dopo cioè quel bel terzo posto dell'anno scorso però con una squadra che quest'anno è più forte con avversari più forti tu dici è forte la mia squadra la mia Real Sebastiani quest'anno e hai visto già tre squadre ma conosci anche le altre riesci un po' a sbilanciarti anche perché qua torni tra due mesi forse quindi te lo devo chiedere adesso qual è l'obiettivo guarda ti dico con sincerità prima di tutto faccio un piccolissimo velocissimo passo indietro sull'anno scorso nel senso che bisogna essere onesti il nostro terzo posto mischiato con l'altro girone valeva un quinto sesto settimo posto perché poi i due gironi andavano uniti quindi è un grandissimo terzo posto una grandissima semifinale in un campionato diverso questo è un campionato che ci ricolloca all'interno di un calderone di squadre fortissime quindi questo è corretto dirlo così come da parte mia sarebbe scorretto andare come dire a nascondermi o a dire che dobbiamo vedere dobbiamo fare noi vogliamo stare attaccati al treno davanti il più possibile il treno davanti è il treno che parte dal primo posto e arriva all'ottavo nono posto realisticamente è chiaro che potrà succedere saremo tanto bravi da meritarcelo o faremo fatica e ci troveremo a battagliare tra il decimo e il tredicesimo posto ma non escludo che questa squadra possa fare grandi cose nella maniera più assoluta perché abbiamo fatto un test importante sabato e domenica e devo dire che allo stato attuale contro una delle strafavorite alla vittoria del campionato non abbiamo un dislivello come quello che si poteva percepire l'anno scorso oggettivamente l'anno scorso quando andavi in campo con Cantù e Trapani percepivi una differenza di valori totale in ogni ruolo quest'anno riusciamo a competere in alcune situazioni loro hanno qualcosa in più in termini di esperienza in termini di profondità anche proprio di uomini abituati a gestire determinati momenti come dicevamo prima in un certo modo però la nostra squadra non abbiamo nominato Moraschini De Nicolao Valentini gente esperta gente che faceva i titolari in Serie 1 Barz che esce dalla panchina esatto parliamo di una squadra fortissima però noi dobbiamo convincerci di non essere tre livelli sotto dobbiamo convincerci di poter competere in queste partite e giocarcela e dobbiamo portarne a casa qualcuno bene Bruchietti io so che tu hai una domanda però volevo farti complimenti perché sei stato un buon profeta a due su tre delle capoliste l'ha già indovinata e lui punta tutto su Milano su Rimini e poi senza vita anche Cremona ma ha detto che secondo lui Rieti non è molto lontana quindi speriamo che tu continui ad essere questo buon profeta la partita con Cattolo con Cattolo con Cattolo con Cattolo con Cattolo è giusto i valori non c'è stata una differenza evidente tutt'altro la partita che si è decisa su due giocate cioè si poteva potevamo trovarci a punteggio pieno tranquillamente e avremmo adesso magari c'era un atteggiamento diverso invece non deve essere così invece c'è consapevolezza di una squadra è una squadra che poi la partita valetta io se posso fare una domanda al coach io vedo allora 46 punti dei due americani loro totali su 74 su 74 tanti allora mi domando e vedo poi ovviamente il problema non tanto su Gets che ne fa 19 ma su Spencer che ne fa 5 allora qui alla prima puntata insomma al primo non era una puntata alla prima al primo incontro parliamo del problema difensivo dei rimbalzi che poi secondo me era un falso problema perché legato a Spencer parlo perché secondo me sono caduti molti non nella sua nel suo raggio di azione per cui forse l'errore nel concetto tanti poi non è stato soltanto il suo invece secondo me è un po' offensivo nel senso che la squadra almeno il primo e il secondo quarto a mio parere si è appoggiata più delle altre partite sotto con Cicchetti però oggettivamente c'è una scarsa pericolosità a livello offensivo di Spencer non vorrei che soprattutto non essendo secondo me con tutto il rispetto e qua stiamo parlando ovviamente non mi è sembrato spalle a canesso non mi sembra un giocatore che fa paura insomma e quindi non vorrei che la tendenza fosse quella di non passargli tanto la palla io ho visto in tante occasioni che lui anche era smarcato è una squadra che non mi sembra in questo momento che lo stia coinvolgendo tanto nonostante ripeto in questa partita ci sia stato da parte sua più movimento anche per e non mi sembra anche questo mi preoccupa forse un po' di più che lui abbia un carisma tale rispetto a qualche altro giocatore da poter non dico fondare su questo una protesta però magari carismaticamente cercare di un attimino di che io non posso fare su e giù insomma ecco grazie allora Alessandro finisco per la domanda quanto ha inciso ecco ha inciso di più questa è la domanda è la differenza di punti tra gli americani o il fatto che deve migliorare la qualità del nostro gioco quando giocano insieme Monaldi e Gets io ritengo che questa squadra non possa far meno di loro due insieme però penso che ci sia da limare un po' da perfezionare un po' i meccanismi quando sono tutti e due in gioco conta più questo o conta più la scarsa capacità offensiva dimostrata in questo momento da grazie allora Ale scusami ti lascio rispondere tra un attimo solo perché ovviamente mi ha bruciato non facendo la scaletta mi ha bruciato la domanda argomento Spencer io lo cerchio e grazie avvocato non lo sapevo quindi a tornare il mio avvocato l'altra parte mi è stata data la parola ma poi ho tenuto da verificare se poi è da verificare se sulla scaletta c'è la domanda c'è scritto c'è scritto abbiamo visto solo cerchiare no io chiedo scusa a Concio Ponticello perché qui ci animiamo ma puoi intervenire quando vuole soprattutto contro no contro me quello è scontato però l'ha tirato fuori Alessandro ci sono tante domande dentro e quindi ti pregherei e ti ringrazio della tua sintesi capacità veramente straordinaria di fare un cerchio e chiudere perché in effetti c'è quasi tutto il campionato in quello che dice Alessandro Bocchietti io mi trovo d'accordo con quasi tutti i punti che sono stati toccati nel senso noi dobbiamo migliorare la coesistenza di Jets e Diego ma è normale perché sono due giocatori importanti che ci metterai anche Spanghero io sì ma Spanghero però si conosce già con Jets hanno già un equilibrio diverso e ti dico secondo me Jets e Diego sono due ragazzi di un'intelligenza stra strepitosa si rispettano si stimano quindi non non è un problema è solo l'abitudine a giocare insieme tanto e non è una cosa che si fa in un mese e la stessa cosa non era una critica era soltanto in prospettiva il discorso ma è una cosa condivido condivido cioè da migliorare così come è da migliorare l'aspetto del coinvolgimento di Spencer è chiaro che è un giocatore che ha delle caratteristiche particolari e questa cosa non è facile da ritrovare in A2 e non è facile per i giocatori di A2 abituarsi alle sue caratteristiche quindi c'è un c'è un doppio problema non è un giocatore consueto per questo campionato quindi anche gli stessi italiani si trovano alle volte in difficoltà nel capire come innescarlo c'è un lato positivo in tutto questo cioè che parliamo di un professionista di un ragazzo esemplare e quindi questo faciliterà il processo è chiaro che è un processo che non riusciremo a sviluppare in pochissimo tempo ma richiede partite soprattutto richiede partite perché la partita ci fa vedere i problemi alle volte anche più dell'allenamento perché c'è un avversario che prepara delle contromosse alle situazioni quindi le partite ci diranno la direzione che dobbiamo prendere ma è sicuramente una cosa da fare ed è una priorità assoluta e per chiudere dico che in generale ricordo anche benissimo perché lo ricordo benissimo come giustamente si parlava di Hog nel primo mese a Rieti e nel primo due mesi si parlava di un giocatore lento che non saltava che non era in grado di non ci potevamo appoggiare il gioco e poi alla fine abbiamo trovato il modo per e lui è stato bravissimo chiaramente col suo carisma a trascinarci ci sono delle similitudini nella difficoltà ad integrarli esattamente però e dico l'aspetto perché sono diversi sono diversi e l'aspetto caratteriale che ha sottolineato è molto corretto perché mentre Hog è un giocatore anche caratterialmente molto espansivo molto forte era il leader era uno che poteva diventare un leader era più facile andargli dietro chiaramente lui non è più un taciturno quindi è una persona con cui bisogna un po' portarlo nel buon lavoro sì sì per un sacco di settimane dobbiamo cercare di fare il meglio possibile grazie posso integrare un attimo ma a me sembra a me sembra che i nostri le nostre guardie i nostri esterni abbiano difficoltà proprio nell'innescarlo al canestro perché è un giocatore che guarda il canestro e tu hai una sola possibilità di passargli la palla mentre con Og potevi gestirtela come ti pare perché faceva anche il play in alcuni momenti il play aggiunto Dasti sì però sono due giocatori completamente diversi però ecco mi è sembrato in queste prime partite ma come dice il coach giustamente c'è tempo per migliorare che ci sia difficoltà proprio nel capire che il movimento è al canestro non spalle a canestro quindi diciamo si addinei su questo la segui la Sebastiani ce la può dire non l'ho ancora vista però credo che siamo stati sviscerati alcuni dei punti essenziali uno dei luoghi comuni che si tende chi non fa il nostro lavoro a diciamo tirare fuori è come se la pre-season esaurisca la fase di diciamo determinazione della chimica in un senso strettamente tecnico oltre che emotivo non basta e invece è una cosa almeno io dico continuativamente e in modo anche ossessivo ai miei giocatori è che tu debba essere a novembre meglio di quello che tu sia ad ottobre e a dicembre meglio di quello che sia a novembre cioè è una posso usare anche con loro quando faccio le televisioni è un work in progress non per voler tirare fuori banalità in inglese però a cui è affezionato tanto poi col coach parliamo di Cassar col coach parliamo di Cassar quindi non è che se la cava così con il fatto di spesso allora vai fagliela subito su questo Cassar amato e discusso dobbiamo trovare il modo di rendere veramente devastante un giocatore che per la categoria è devastante fisicamente un 2-8 con il Cassar è un giocatore che va anche da parte dei compagni innescato a dovere Francesco questa non l'avevo segnata giuro quindi è tutta tua e ci credo ma credo che Kurt Cassar abbia delle caratteristiche bravissimo ragazzo un altro ho avuto modo di conoscerlo personalmente molto particolare lui è il classico giocatore che se avesse una differente fisicità sarebbe un 4 naturale lui è un giocatore con una dolcezza di rilascio al tiro è un giocatore che sa passare anche molto bene la palla la sta sta crescendo anche in questo aspetto che già si intravedeva qualche stagione fa lo sta facendo divenire un qualcosa di più stringente è chiaro che noi abbiamo costruito la squadra di quest'anno su un'idea molto semplice che ci fosse una dinamica di lungo periodo che includeva anche gli aspetti di miglioramento di Kurt anche qui insomma il lavoro individuale soprattutto quando hai dei giocatori immediatamente giovani e si sa che un lungo del 99 equivalga in alcuni aspetti ad un piccolo del 2002 anche qui può sembrare una banalità però c'è un qualcosa di vero in questa differente è più facile vedere un giocatore 17enne nel ruolo di guardia o di playmaker incidere che non altrettanto per un lungo oltre a questa dinamica su Cassar condivido pienamente l'idea che lui debba portare pienamente a compimento il suo potenziale se ancora per tanti tratti inespresso però abbiamo affiancato un giocatore come Patrick Baldassare che abbia delle caratteristiche differenti rispetto allo stretch for come poteva essere Dario Zucca ad esempio la scorsa stagione abbiamo inserito un giocatore che produce anche tanto nei tre secondi come Baldassare che è anche una buona attività nella parte difensiva può diventare questa mancanza di punti di riferimento per gli avversari un'arma cioè tipo tira da fuori Cassar che tira benissimo ma lo è stato già l'anno scorso quella della scorsa stagione è stata sicuramente una stagione devastata da problematiche che personalmente se le sommi tutte e vado a ritroso nella mia tutta la carriera ma probabilmente sì Tibia Tendine di Achille uno che torna a casa per dei problemi personali di Roderick lasciamo stare però è una stagione che è servita a scollinare dalla dimensione delle due retrocessioni in 24 mesi e aveva un'identità anche quella squadra e comunque quella di quest'anno quest'anno anche se condivido l'idea che abbia potenziato alcuni aspetti non nasce come quella del luglio del 2013 da una necessità di cominciare da te questo non è un anno zero e quindi si è provato in maniera direi di dettaglio a migliorare la completezza di alcune parti avere una panchina ad esempio più consistente la crescita di Melchiorri ne è una testimonianza ma anche l'equilibrio delle parti avere un giocatore di esperienza come Fabi è un concetto che tutti possono capire avere un giocatore come Fabi che è anche un playmaker raggiunto che è io l'ho avuto dieci anni fa a Reggio Calabria nella squadra con Diego Monaldi e Ion Lupusor ad esempio già allora era un giocatore in grado di migliorare la qualità della esecuzione offensiva questi aspetti sono sono sinergici lavori su un piano e lavori su un altro piano grazie coach noi ci fermiamo un attimo perché abbiamo la pubblicità ma io riprenderò subito con lei per l'argomento Thomas perché insomma diventa un po' intrigante questa cosa un minuto solo e torniamo Rieti e la sua provincia come non l'avete mai vista cercatela su Rieti Nature il portale che con foto e video vi accompagna in un viaggio immersivo tra natura spiritualità cultura e bellezza camminare pedalare correre sciare persino volare scopri l'angolo del reatino che fa per te e per il tuo tempo libero scorri gli eventi che si susseguono settimana dopo settimana borgo dopo borgo e poi vieni a goderti Rieti Nature uno spettacolo di provincia Rieti Nature è un portale di promozione del territorio della fondazione Varrone Cassa di Risparmio di Rieti Paci Auto 4 una storia di passione e innovazione scopri le nostre filiali di Rieti Terni Orvieto L'Aquila e visita il sito www.paciauto4.com Eleganza qualità e cura dei dettagli per l'uomo la donna e per la cerimonia scegli tosti abbigliamento l'abito giusto per ogni occasione Big Matt è il tutto dal 1981 tutto per costruire e ristrutturare casa l'abito giusto l'abito giusto L'abito giusto Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Per far sentire le persone a cui tieni davvero speciali, scegli Rieti Life per i tuoi auguri più importanti. Per informazioni e costi, contattaci. Non perdere l'occasione di rendere indimenticabili i momenti che contano. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Manca il visto. Grazie a tutti. 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 sinistro, non della classifica, delle immagini proiettate in estate rispetto alle previsioni, cioè squadre di un impatto fisico decisamente superiore a quelle che siamo in questo frangente. Grazie, allora Lara sei pronta per i prossimi turni, entriamo in ambito subito a due, Andiamo a vedere con chi ci scontreremo. Allora, Udine-Sellacento, Cremona-Bologna, Real Sebastiani-Lieti-Pesaro, Nardò-Livorno, Orzinuovi-Piacenza, Avellino-Vigevano, Rimini-Urania-Milano, Brindisi-Forlì, Cantù-Torino, Verona-Cividale. Allora, Alessandro, Piccin, intanto che tu presenti la prossima giornata che vedrà un'altra big, alle ore 21, sabato, arriva anche Pesaro. E però Lorenzo Piccin è ancora fuori, cioè che succede? No, dovrebbe direi che è in fase di guarigione, speriamo di poterlo rientrare. Ma che ha fatto? Ha il problema alla caviglia? Sì, ha avuto una brutta distorsione, un po' fastidiosa, quindi abbiamo seguito tutto quello che sono state le indicazioni mediche per recuperarlo, è tutto perfettamente nei tempi prestabiliti, speravamo di poter accelerare, ma oggettivamente non ha neanche molto senso, è il motivo per cui abbiamo deciso di essere in 11, cioè far fronte in un campionato da 38 partite a questo tipo di situazioni, magari rinunciando al valore singolo di un giocatore all'interno dei 10, ma spalmarlo su una qualità media più elevata. Sabato sarà convocabile? Me lo auguro perché adesso da oggi ha ripreso... E quindi esce Viglianisi? Beh, questo... O è un turnover che deciderà di volta in volta? Teoricamente è un turnover da decidere di volta in volta, sicuramente Viglianisi per noi è stata un'aggiunta, ecco, quindi i 10 giocatori erano quelli selezionati all'inizio, ecco, con Pollone, che aveva sostituito Gaic e Piccin, ci mancherebbe altro, quindi sicuramente Kenneth poi è un ragazzo clamoroso, un ragazzo educatissimo che ha capito perfettamente dove si trova, il suo ruolo, quindi saremo pronti a fare la scelta migliore, però Lorenzo deve stare innanzitutto bene perché è fondamentale che non abbia rischi di nessun tipo. Sei d'accordo se dico che è più forte il Cantù di Pesaro? Stavolta non siamo d'accordo, no, o meglio, o meglio. Come squadra Cantù mi dà l'impressione di essere in questa fase veramente già molto strutturata, è una squadra solida, compatta, che sui due lati del campo ha le idee molto chiare, molto molto ben organizzata per essere in questa prima fase del campionato. Pesaro dal mio punto di vista ha più talento, nettamente più talento. Però un po' più indietro? Però potrebbe essere, no più indietro, ma una fase proprio per questo talento un po' più diluito, cioè, no più diluito, proprio un maggior talento complessivo, c'è la difficoltà di assemblarlo a volte, quindi comunque ci sono tanti giocatori importanti, di uno contro uno, tanti giocatori che con la palla in mano possono far male, trovare gli equilibri tra tutti questi giocatori è molto complicato. Come la vedi tu per domenica? Anzi, sabato sera. Io sono molto d'accordo. Volevo dire, è possibile che la cattiveria di Cantù, anche in fase difensiva, visto che Pesaro è una squadra di grande talento, non la troviamo in Pesaro, e questo ci potrebbe aiutare nel corso dei 40 minuti? Sicuramente Cantù ha una spiccata proprio capacità nel distruggere il gioco avversario. Barnes, piccoli, sono stati molto cattivi. È una squadra veramente tosta e organizzata, ma come sempre quella che ho affrontato di Brienza, quando ho giocato contro Nicola è sempre stato così, quindi ha preso proprio già il suo marchio distintivo difensivo. Pesaro potrebbe avere quell'aspetto di uno contro uno, anche lontano dalla palla, molto aggressivo, però è una squadra che ha dimensioni fisiche anche più importanti di Cantù. Quindi potrebbero, come dire, pareggiare questo eventuale gap con una fisicità che è ancora più importante, soprattutto nei ruoli degli esterni. Alessandro, hai qualcosa su Sampaglossera alle 21 o ci fermiamo, passiamo a Serie B? Ecco, allora, altro derby con Cassino, un derby diverso rispetto a quello di Latina, però anche con un sapore diciamo amorevole nei confronti di Andrea Uletta, che è cresciuto nell'NPC, ha fatto questo salto l'anno scorso salvando Cassino ampiamente, poi c'è stato anche uno scontro tra le due squadre, proprio Rieti e Cassino, nei play-off. Però quest'anno, insomma, sembrano anche un po' diverse le misure. Una partita io la definirei un po' più facile sulla carta. Ma io tendo a diffidare... Domenica pomeriggio, giù, domenica pomeriggio, 18. Tendo a diffidare di questi aspetti, non perché abbia un'idea divergente dalla sua, perché in realtà ogni gara fa storia a sé, perché incontrare una squadra che ha iniziato con 1-0-3 non è un fattore che ti semplifichi i compiti, piuttosto te li complica. Però il potenziale di squadra della NPC è... Sì, ma è un po' per certi versi il discorso che stavate facendo rispetto a Pesaro e Cantù. Ci sono degli aspetti aggiuntivi alla dimensione della qualità dei singoli giocatori e della struttura. Che Cantù sia il quarto tentativo di ritornare in A1 e Pesaro sia appena retrocessa, dopo non so quanti decenni, dall'A1. E Scudetti vinti? Eh, ma anche Cantù, voglio dire. Lì c'è l'imbarazzo della scelta. La conosciamo bene. Certo, però guardare anche questi aspetti che interagiscono e interferiscono a livello mentale, secondo me è estremamente importante. Cassino, in linea di massima, giocare al Palace Ojourner contro una compagine che ha vinto con una semifinalista della scorsa stagione come Fabriano. in trasferta come una squadra come Latina che nel match successivo ne ha data 20 ad una Lewis che ha tolto i due americani e d'Argenzio presenta il medesimo roster con cui nel complesso non ha poi sfigurato in A2. Cosa ha da perdere? E allora molto meglio, piuttosto che riflettere, almeno parlo per me, è chiaro che poi a livello giornalistico le valutazioni sono convergenti, fossi nel suo ruolo direi esattamente le medesime valutazioni e la stessa domanda. Io vado su un livello differente e torno al discorso del cosa e del come. Cosa dobbiamo fare? Una partita più consistente del match di domenica scorsa, assenze o almeno, come farlo con un'intensità e un'energia che ci colleghi alle due partite di avvio del torneo ma che possibilmente ci faccia fare un ulteriore upgrade, sempre per il discorso del giocare il match dopo meglio di quello prima e per primo non mi riferisco al match a Roseto, tutto sommato sarebbe una tragedia non farlo, ma anche rispetto a Latina, ma anche rispetto a Fabriano. Grazie, allora sarà d'accordo, poi sento anche Alessandro, in chiusura se serve concentrazione doppia. Assolutamente, condivisione totale. E quindi concentrazione doppia. Beh, sì, ma sono d'accordissimo con quello che diceva il coach Ponticello, cioè queste partite poi sono soprattutto quando si gioca in questi campionati con squadre che vengono da una striscia di sconfitte, sono le partite più pericolose in assoluto, perché c'è questa voglia di uscire da un tunnel. e Pesaro per noi rappresenta un problema perché è già inciampata, non se l'aspettavano, inciampata in casa condigevano, quindi per loro il campanello d'allarme è suonato. Però dici di prima, assolutamente il tesoro di giocare tutte queste partite in casa non lo possiamo buttare via, poi arrivano le trasferte. Bisogna cercare di fare qualche sgarbo alle big, assolutamente. Grazie. Lara, io avrei finito, cioè siamo già più o meno oltre l'ora. Sì, però me l'ha venuta un attimo... Ah no, allora... No, perché proprio di Pesaro, siccome ho visto la conferenza stampa post partita, e quando hai parlato, ti do del tuo, di Pesaro, ho percepito effettivamente un po' di preoccupazione, mi sono sbagliata? Ma preoccupazione... Ho letto nelle tue parole un po' di preoccupazione. Sicuramente per il valore dell'avversario, perché comunque giochiamo con una squadra che è a bocce ferme oggettivamente per la qualità dei giocatori di cui dispone, è una squadra di altissimo livello. Forse la migliore. Forse sì, forse la migliore la metterei... Ma che è come figurine. Io preferisco probabilmente ancora Udine, se proprio dovessi dire. Ma siamo veramente ai dettagli, nel senso che parliamo di... Secondo me tre squadre, Cantù, Pesaro e Udine, che hanno costruito un roster molto, molto profondo e di una qualità media altissima. Che se non sbaglio coincidono con le tre squadre favorite anche dal presidente Roberto Pietropaoli. Ah, questo non lo sapevo. Mi sembra di sì. Te lo ricordi quando l'hai letto la settimana scorsa? No. La settimana prossima le rileggiamo allora. Grazie. Grazie a Lara, grazie infinitamente ai nostri ospiti che sono stati Alessandro Rossi, Sebastiani Rieti, l'Avvocato Alessandro Bruchetti. Grazie, grazie a voi per la pazienza. Vi ringrazio ma poi tanto vi riaspetto le settimane prossime e così a coach Francesco Ponticello della NPC Rieti. Grazie a voi. E Francesco Pifani. Grazie. Lara, ci siamo? Chiudiamo? Va bene? Grazie per averci seguito. Vi ricordo che potete rivedere questa puntata su rietilife.com e su tutte le nostre pagine social. Ci vediamo martedì prossimo. Ciao a tutti, grazie.